Palla profonda a cercare Camilli che si muove lungo la destra, va a cercare il contrasto con Fiore e Pallone guadagnato da Cancucolo, allontana, alla belle buona, Minelli salta, Pallone per Della Penna, può anche calciare da lì, a postulare per Ruggero, Ruggero! Pallone a cercare Camilli, anzi Della Penna, Della Penna, ha segnato il grado Della Penna, 2 a 0, la Procalcio raddoppia con il suo fuoriclasse al minuto numero 25, Della Penna va 2 a 0, rimanendo in rete una grande restinta di Palombo che sarà a posto da campione, su Emanuele Ruggero, la Procalcio raddoppia, ha segnato il suo fuoriclasse, il grado Della Penna.